Il pizzicato è una tecnica usata moltissimo nel contrabbasso in orchestra, generalmente come tecnica di accompagnamento. Sul contrabbasso noi possiamo pizzicare con l'arco in mano o senza l'arco in mano. Se noi arriviamo al pizzicato da una nota suonata con l'arco, possiamo tenere l'arco in mano e poi pizzicare in questo modo. Quando invece siamo comodi e abbiamo il tempo di posare l'arco sul leggio in mezzo al ponte, pizzichiamo senza arco. Usando anche più dita. Mi raccomando quando pizzichi in orchestra e magari hai un accompagnamento di una o due note a battuta, ricordati di vibrare il pizzicato perché risuona e si sente di più. Quando trovi scritto pizzicato Bartók per esteso oppure il simbolo specifico, il modo di pizzicare prevede che tu prenda la corda fra le due dita e che la tiri, in modo da creare anche un effetto percussivo. In casi particolari ci è più comodo pizzicare, se si tratta di corde vuote, con la mano sinistra, in modo da avere l'arco comodo e ricominciare subito a suonare con l'arco. Ovviamente se noi pizzichiamo più verso la tastiera il suono sarà minore rispetto a quando pizzichiamo vicino al ponte.